E' una vera cooperazione Nord-Sud che noi vediamo oggi come Regione Calabria e Regione Piemonte è aperta non solo al Sud-Sud e quindi all'adozione verso i paesi del Sud-Africa piuttosto che dell'Africa subsahariana ma anche con tutto il resto del mondo. L'assessore regionale alle politiche sociali Federica Roccisano ha presentato nel corso di una conferenza stampa il nuovo servizio regionale per le adozioni, un'iniziativa che si svolgerà in collaborazione con la RAI, agenzia regionale per le adozioni internazionali del Piemonte. Una collaborazione che prevede anche la formazione per le famiglie, gli insegnanti e quanti saranno coinvolti nel progetto. Regione Calabria è garante per l'infanzia e uniti per riconfermare il diritto del minore in un territorio privo di un osservatorio minorile. Adottare un bambino significa avere la consapevolezza di una responsabilità perché nel momento in cui lo si adotta bisogna essere consapevoli di che cosa sia la genitorialità, di che cosa sia il dono della maternità e della paternità e poi chiaramente si va incontro ad accogliere un bambino che per la sua complessità ha una serie di problematiche. e nello stesso tempo poi questa agenzia accompagnerà questi genitori nella scelta sia della nazionalità e quindi di tutte le pratiche che... Quello che a me interessa però sottolineare è che il bambino ha diritto, ecco, mi interessa sottolineare il diritto del bambino ad una famiglia.